Papà, ma perché non denunci questa cosa ai carabinieri? E lui mi disse un po' nel posito, dice fatti i fatti tuoi, non ti preoccupare me la vedo io. Perché lui aveva paura, perché in queste zone purtroppo questi clan con il terrore, con le armi, fanno paura. Molte persone infatti subiscono questo racket, anche i negozi, tutti quanti, e avevano paura di parlare, anche perché non c'è come oggi, ci sono tante associazioni, c'è molta pubblicità. Diciamo oggi lo Stato è più vicino a questi imprenditori, all'epoca non c'era tutto questo che c'è oggi. Però dobbiamo anche ricordare, noi parliamo sempre di Scampia come un posto brutto in un certo senso, però ecco c'erano anche, ci sono le persone per bene, non ci sono soli delinquenti. Tant'è vero che lei mi ha detto, la persona che il mandante dell'omicidio di mio padre, diciamo, era un mio vicino di casa, quindi bisogna poi convivere con questa realtà. Quindi arriviamo proprio al giorno fatidico, in cui suo padre era preoccupato, però continuava ad andare avanti. Praticamente il 12 febbraio, era un venerdì, lui la mattina era stato in banca per accogliere i soldi perché doveva pagare gli operai, e diciamo che era seguito da queste persone, tanto è vero che le persone che poi l'hanno minacciato non stavano nemmeno avvolto coperto, era un avvolto scoperto, quindi mio padre non si rese nemmeno conto della minaccia di queste persone. Lui era andato, c'era uno sgabuzzino dove stavano facendo questi lavori, e era andato nello spogliatore degli operai per pagargli. Era stato in banca? Stava, sì, stava per andare a pagargli le paga, a questi ragazzi. Siedono che uno di questi ragazzi si avvicinò a mio padre e con sicurezza gli disse dammi i soldi che c'hai in tasca, perché sapeva che c'era i soldi a pagare. Lo avevano seguito fino in banca. Esattamente. Mio padre si oppose e nell'opporsi questo cacciò l'arma e sparò. Il primo colpo andò a vuoto, però poi si incorse mio padre, mio padre correndo fu colpito dal secondo colpo. Alle spalle. Alle spalle. Dall'altra parte c'è stato mio fratello che vide mio padre sanguinante, lo mise in macchina e lo trasportò al pronto soccorso. Nel portarlo al pronto soccorso, ci stava pure un'altra persona a fianco che portava la macchina, mio padre si preoccupò di dire queste parole a mio fratello. Mimmo, non gli ho dato i soldi, qua c'ho i soldi di tutti gli operai, mi raccomando, paga gli operai. Gli operai hanno le famiglie. Cioè, uno degli ultimi pensieri di mio padre, prima proprio di perdere i sensi, perché quando andò in sala operatoria e morì, era quello che doveva pagare gli operai, i suoi operai, i suoi collaboratori. La sua umanità, quindi. Questo è un ricordo che lei porta vivo di suo padre. Questo non lo posso mai dimenticare, diciamo. Grazie. Grazie.